...sei tranquilla, non ti viene il caglio, pensano così, le donne pensano perché si informano su Donna Letizia, si informano su Gioia, sulla televisione, capito? Poi la differenza tra mille donne, tra mille donne che fanno la mammografia e mille donne che non la fanno, la differenza di salvamento di vita sono due su mille, che è già tanto, ma due su mille, non 800 su mille, due su mille si salvano perché hanno fatto la mammografia, perché non la fanno la mammografia, mi segui? Io le posso dire una cosa, lei è un alieno, non sono un alieno, mi informa... Non si parla di legge elettorale, non si parla di legge, lei parla di sanità...